Consigliere Culisano, consigliere Culisano, ma come mi saluta? Scusi, un suo parere su queste telecamere? Ho il dovere di passeggiare adesso con il mio cane. Sì, ma può passeggiare qui? Guardi, un parere su queste telecamere. Le telecamere sono sparite, mi dica, mi dica. Ma è vero che non sono state pagate?